Ah, ho capito tutto. Che gioco di merda. Ah, quando sei brutto. Siamo tornati in questa zona. Siamo tornati. Siamo tornati in questa zona. Siamo tornati in questa zona. Siamo tornati su Five Nights at Wario's 3. Ok, però non ho capito. E perché proprio, come fai a nascondersi con le mani? Però ho capito che se vedo qualcuno qui sulle scale, no, sono proprio sulle scale, qui sopra, devo nascondermi mettendomi le mani in faccia. Ho già visto qualcuno. No, no, anche lei no. Che rumore inquietante, madonna. Manco i naoni, sono così terrorizzato. Oh, no, ragazzi, mi sto cagando sotto. Sto cagando addosso, ho una paura fottutissima. Certo, ragazzi, per me è anche difficile giocare. Non perché lo devo mandare nel telefono. Però il fatto è che sto mangiando il mio gelato a lampone. Perché c'è un caldo enorme. Ah, ma è la bambina. Ashley, mi cazzo, c'è. Ma solo lei va lì sopra. Minchia, un secondo fa mi ha rotto il cazzo, uno. Ma, madonna. Stavo dicendo che è impossibile giocare. E' un certo mangiare il mio gelato. Ho appena mangiato, cioè, lo sto mangiando perché c'è un caldo boia. Ma di nuovo, eh? No. Ma sono le quattro. Manco io ho visto l'orario. O le quattro, proprio. Sto registrando questo video di notte. Quattro qui. Sì, ma stai calmo. Cioè, ragazzi, io a posto di concentrarmi sul gioco, mi sto concentrando sul gelato. Cioè, scommetto un milione che io ho fatto in alcuni in bocca. Scommetto un milione. Cinque di notte. Cazzo. Cazzo. Che poi è finito questo, vorrò fare anche il due. Madonna, ma mi sono preso un colpo. Cazzo. Notte quattro. Hey, hey, good evening. It's a match here again. Hey, listen up. Because I've, like, found some crazy information today. The ones who used to live in the house you're in right now were the McCroy family. Oh, that was a very long time ago. Kisana, battela. And Mr. And Mrs. McCroy. Although it's not really a familiar name to me. McCroy. McCroy. Nah, it just doesn't leave as much battery off the lamp as you can. That bedroom, though. I'm guessing it was the child of the family who slept in there. Oh, sorry. Good night. 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 Hey, ragazzi, so se non ci raccordi, ma è tutto al contrario. Alcuni che hanno russiore al contrario, ragazzi, vorrei capire soltanto una cosa. E che alcune volte scendo i rumori tipo... E che alcune volte... Ecco questi E' una cosa che ho fido di mangiare il mio gelato E' una cosa che sono cinque notte E' una cosa che in questa notte Ci sono prodotti animatronics e sono morti Sono andato per ruolo per fare così Però batteri si sta scaricando Prego muoviti Va a tirare la torcia Ragazzi torcia Sì Sì Sono morto dentro Madonna Ok ancora Ancora un'altra camera Basta Dai credo di far ruolo ma no Vabbè facciamo anche questa Tanto che se ne imprega Che se ne importa Ah si Ti sana Fatela Scusate Viene che questa Visi starà a guardo Delle rovine queste Delle rovine Sono stati guardati con le sue amici a distruggere questo bel posto Io non lo so senta perché è un bel posto Perché sono animatronics animatronics Personaggi di Nintendo E io ho rotto il cazzo 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 Che ciuppe lei Cosa cazzo Torrezzi Una domanda Perché sono già le cinque Un bug Vabbè Quindi ragazzi ma ho finito anche questa notte Ma si è scritto notte Cosa quindi non ho fatto la notte 4 prima No basta Comunque ragazzi sono più felice che mi hanno vinto per un bug Ah santo il Gesù notte 4 Si vede un cazzo Ragazzi come faccio se non si vede un cazzo Ragazzi ridi Allora mi fondai Vaffanculo Door control Alcuno posso che torre le porte se vedo qualcuno Problema Basta notifiche Problema è che non so quando arrivino Ah perché sta chiuso qui Ecco Non potevo guardare le gambe perché stava chiuso lì Quindi sai che chiudo una parte? Non potevo guardare le gambe Problema è che non ho capito cosa ci faccia qui Allora ragazzi questo gioco è tutto mazzo Pazzo Pazzo Ogni volta che scelgo una camera Non ne posso scegliere ancora un'altra? No vengono proprio a caso Carissima Ho perso un colpo Allora Allora Come faccio a sapere se c'è qualcuno che mi viene a prendere Se il camera funziona No madonna Che cazzo è spuntato Godzilla Ma che fa? Ah sì Accalmati Ho sempre paura di abbassare le telecamere Non so perché Ok ho capito Ogni volta che scendo probabilmente Uuuu Oddio qualcuno È in una stanza We No scaricata la webcam Adoro i bug Ma dove cazzo sono? Credo Credo Questa qui c'è l'impostanza Ah sopra le scale Win and doop music No In music box No Non bastava il Fate of Reddys 2 Mamma ma è anche su Fate of Wario 3 Tu devi morire Mi mangio quello che ho detto È una bellissima musichetta Questa non sa che forse serve a non far uscire qualcuno da quella tenda forse Da questa Anima di mortacci Ma dove cazzo sei comparso? Manca mi ha dato il tempo di azzare le telecamere Ma dove il music box stava scendendo Forza 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 Se non la gioco bene Ce la faccio Che cazzo Forza 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 E' una appassionata forza Grazie Sei del cazzo Forza Forza Scatta di queste sei di merda Per l'amore di dio Da' cazzo Sì, sì Vieni ragazzi, questa è la seconda di questa risposta, vi faccio vedere suario Ciao, ciao